Benvenuti sul nostro canale. Lo sapevate che Demir denunciato Fekeli nella vita reale? Ed ora scopriamo le dieci cose che ancora non sappiamo che stanno uscendo giorno per giorno. Terra Mara o Zuleyla è una delle serie turche di maggiore successo degli ultimi tempi ed ha iniziato ad andare in onda nel 2018 in Turchia. La serie è andata in onda da tre anni e in questi anni sono successe molte cose. Ecco perché in questo video vi racconto altre dieci curiosità che forse non sapevate ancora su Terra Mara. Ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie riguardanti i vostri attori e le vostre storie turche preferite. Iniziamo. Numero 1. Il successo di Terra Mara in tutto il mondo è così grandioso che nel 2020 la serie è stata candidata a diversi premi nel Produce World 2020 che è uno dei più importanti premi dell'America Latina ma non si trattava solo di nomination bensì anche della vittoria nelle categorie di miglior film straniero e miglior attrice come protagonista che dà vita a Unkar in una serie straniera. La cerimonia si è svolta online a causa della pandemia che è durata più di 50 ore. Il team di produzione di Terra Mara è stato grato per i premi vinti ma anche ha un record di otto anni in Spagna visto che nella sua ultima puntata ha raggiunto un importante livello di audience ottenendo un rating del 13.8% con più di un milione e mezzo di telespettatori. Ancora oggi è uno dei programmi più seguiti sugli schermi di Antenna 3. Numero 2. Faide Persina con il nome di Unkar Yaman è chiaramente una delle attrici più importanti della Turchia ed ha tirato molta attenzione quando è stato reso pubblico quanto denaro avrebbe guadagnato per ogni episodio di Terra Mara. Prima dell'inizio della serie i media turchi avevano già annunciato l'importo che avrebbe ricevuto per ogni episodio ed era di non meno di 100.000 lire turche ovvero una cifra superiore a quella di molti altri attori di questa serie e considerando che ha girato 71 episodi la quantità che ha ricavato è di 7 milioni di lire turche. Il pubblico turco ha elogiato l'alto stipendio ricevuto da Vaide che lo merita per il suo lavoro. Numero 3. Ilaila Altenbeck è la grande attrice turca a cui è stato affidato il ruolo di Zuleyla. La moglie di Demir e chiaramente lo merita oltre al suo talento come attrice spicca la sua bellezza ma come sempre la stampa è alla ricerca di ogni minima cosa per criticarla. Così i media sono andati a cercare immagini del suo passato e di questo in questo e hanno trovato un'immagine dove ilaila ha un aspetto un po' diverso. Si tratta di una foto di quando stava iniziando la sua carriera di modella. Si può chiaramente vedere che ha subito delle operazioni estetiche. Lei stessa l'ha affermato di essersi effettivamente rifatta al naso e di essersi sottoposta a trattamenti odontoiatrici. Con queste dichiarazioni l'attrice ha chiarito di non avere alcun problema a confessarle che nessuno ha il diritto di metterla a disagio per averlo fatto, dato che è normale al giorno d'oggi sottoporsi a qualsiasi intervento per sentirsi più a proprio agio con se stessi. Numero 4. Qui troviamo con il nome originale della serie Birzamarlarkukurova, ma a causa del doppiaggio sia in latino che in spagnolo alcune parole della serie sono state cambiate. Per esempio questa diventa Kukurova e invece Kukirova ed anche la pronuncia Ilmaz è diversa a causa delle diverse lingue italiana e spagnola. Secondo il doppiaggio il personaggio principale è conosciuto come Zuleila e il latino Zuleila in spagnolo, ma il cambiamento più evidente riguarda il nome della serie che in origine doveva essere tradotto come C'era una volta a Kukurova, ma la serie è stata trasmessa con il nome di Terramara in paesi come Messico, Bolivia, Uruguay, Paraguay e Spagna ed è stato trasmesso con il nome di Zuleila in paesi come Argentina, Cile, Panama e Porto Rico. Scrivete in un commento il vostro paese con il quale conoscete questa spettacolare serie turca. Numero 5. Durante le riprese della serie Ilai e Kerem Alisic sono stati sentimentalmente legati secondo la stampa turca soltanto perché Kerem Alisic è stato visto camminare con Jupiter che è il cane di Ilal. Vogliamo dire che purtroppo ci sono notizie che vengono dette a caso senza alcuna fonte e base sicura senza alcuna prova e i media non chiariscono mai le fonti costringendo così le persone a rilasciare dichiarazioni per forza maggiore. Gli attori hanno inoltre aggiunto che il rapporto che hanno con i colleghi è di pura e sincera amicizia e che il loro rapporto fra colleghi non è mai stato così stretto. Ilal ha parlato attraverso il suo account di Instagram dove ha rilasciato un post che dice. A volte non importa quello che dici o quante cose dici. Le parole a volte vengono contorte, girate, maltrattate, dette male e le persone capiscono solo quello che vogliono capire. Tuttavia se si cercasse di capire e di ascoltare un po' non si farebbe del male alle persone in questione ma in questo caso è necessario ripeterlo ancora una volta con pazienza e con la massima attenzione. Quindi ripeto siamo due amici andiamo molto d'accordo sia sulla scena che fuori dalla scena. Tutto qui. Numero 6. Durante le riprese della terza stagione di Terramara è scoppiato un grande scandalo. Secondo i media turchi nel bel mezzo delle riprese due importanti attori ovvero Murat Unalmilis e Kerem Alisisk hanno iniziato a scontrarsi. Stiamo parlando di Ilmaz e Fekeli. Il primo in questione avrebbe voluto apportare delle modifiche alla sceneggiatura trovando il pensiero contrastante dall'altra parte. La lotta è arrivata a un punto tale che Kerem Aliskis Fekeli ha insultato Murat Unramlis Ilmaz chiamandolo figlio di uno stupido. E un uomo stupido sarà sempre tale secondo Kerem poiché a quanto pare Kerem aveva lavorato in passato con il padre di Murat Unlalmis. Anche egli secondo lui un uomo stupido. Il padre di Murat infatti era un famoso attore. La situazione divenne così tesa che le riprese furono annullate per quel giorno e anche il giorno dopo. Poi si seppe che Murat Unlalmis aveva intentato una causa contro Kerem. A sua volta Kerem voleva intentare una denuncia verso di lui ma fu presto ritirata su richiesta della produzione. Questo fatto richiama molto quello che succede nella storia appunto di Terramara. È una cosa un po' curiosa, non è vero? Numero 7. Purtroppo i problemi legati a quello accaduto non si sono fermati a Kerem. Qualche tempo dopo è stato nuovamente coinvolto in uno scandalo di aggressione. Ma questa volta con un uomo che soffriva di disabilità e che faceva parte del team di produzione e fungeva da comparsa per una scena del film. Secondo i media turchi Livi che stava recitando come autista di un'ambulanza frenando bruscamente avrebbe spaventato gli attori. A quanto pare la caduta ha toccato Kerem a tal punto che ha avuto una reazione negativa verso quest'uomo rivolgendosi a quest'ultimo che aveva anche problemi di pronuncia in maniera offensiva. La questione ha generato molte polemiche e ci si aspettava che il giovane aggredito portasse il caso in tribunale. Tuttavia si è appreso che Kerem si scusò con lui e il caso non fu mai riportato. Numero 8. Selin Geish è la grande attrice turca che dà vita al personaggio di Gülten. Alcune forse non lo sanno ma il suo personaggio viene abusato sessualmente. Una parte chiaramente molto difficile da girare per qualsiasi attrice dato che queste scene richiedono molto impegno. L'attrice ha dichiarato che poiché la parte richiede una grande preparazione è stata sottoposta ad un trattamento psicologico per poter affrontare la scena e per sempre per questo motivo lei ha incontrato anche altre donne che hanno subito abusi sessuali condividendo con lei le loro dure esperienze che ancora si portano dentro. Questi incoltri hanno colpito la numero 9. Unkar è uno dei personaggi più importanti della serie a cui piace tenere un profilo basso. L'attrice è sempre stata coinvolta in notizie relative al suo abbandono della serie. Praticamente i media turchi hanno appurato che lei voleva lasciare il progetto per l'episodio 15 poiché per poterlo mettere su un episodio di quasi due ore a settimana avrebbe dovuto lavorare ogni giorno per più di 10 ore al giorno e vivere nella città in cui si girava la serie ad Adana rendendo il suo lavoro ancora più faticoso. La produzione è uscita alla scoperta per negare le affermazioni della stampa ma alla fine si è scoperto che Unkar ha lasciato la serie nell'episodio 71 e le ragioni erano quelle che lei aveva detto in precedenza alla stampa. Dopo la sua partenza uno degli attori più dispiaciuto per il suo abbandono delle scene è stato Mutrat Unlalmis che ha postato una foto dell'ultima scena girata con Vaide Persin, Unkar, accompagnata da dolci parole di addio e di ringraziamento. Numero 10. Celine Yeninci che interpreta Sanì. Questa grande attrice ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita a causa della pandemia. Infatti a febbraio di quest'anno le è stato diagnosticato il covid positivo e sebbene all'inizio non avvertisse alcun sintomo con il passare dei giorni è iniziato a peggiorare e per questo motivo ha dovuto essere ricoverata in terapia intensiva per 11 giorni dove la sua vita è stata chiaramente molto in pericolo. L'8 marzo giorno in cui si celebra la giornata mondiale della donna e i suoi seguaci appresa la notrizia le avrebbero inviato numerosi messaggi di sostegno congratulandosi con lei per la forza con cui era riuscita ad uscire dalla malattia. Queste erano le 10 cose che forse non sapevate su Terra Amara o Zuleila. Spero che questo video vi sia piaciuto e che non abbiate dimenticato di guardarlo ogni volta. Se vi è piaciuto non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale. Prima di andarvene vi invito a guardare anche gli altri video del canale dove continuiamo a parlare di cose inerenti a punta Terra Amara.